Continueremo oggi la serie su Gesù e vogliamo mettere subito una bella foto con una bella croce perché Gesù ci parla della croce, vero? Noi tutti siamo innamorati della croce, come siamo innamorati di Gesù e sto portando avanti già da un po' una serie che parla di Gesù perché voglio scavare sempre di più e tirare fuori sempre verità, rivelazioni, concetti sull'importanza, sul mondo, sulla meravigliosa grazia e soprattutto sul meraviglioso sacrificio che Gesù ha compiuto per noi e tutti i benefici che noi oggi ne possiamo avere, ne abbiamo e tutti quelli che ancora dobbiamo scoprire perché seguire Gesù è una scoperta tu puoi parlare di quello che hai sperimentato nella tua vita io posso parlare di quello che ho sperimentato nella mia vita ma c'è ancora un mondo da scoprire davanti a noi e abbiamo visto le scorse volte diciamo il passaggio centrale, fondamentale che ho detto è che Gesù è in cielo, alla destra del Padre e che noi possiamo avere relazione con Lui attraverso due cose ve le ricordate? ve le ricordi Alessandro? la sua parola e lo Spirito Santo quindi è fondamentale che noi abbiamo un rapporto con la parola di Dio e un rapporto, una comunione con lo Spirito Santo perché questo ci consente di essere collegati con il cielo quindi collegati con Gesù e in Gesù noi siamo alla destra del Padre questo è quello che la parola ci dice e se volete saperne di più di questo argomento trovate le mie prediche su Youtube oggi vogliamo vedere insieme un passaggio della parola che troviamo in Giovanni 1,17 che è un passaggio molto profondo e ha delle verità nascoste ha delle rivelazioni nascoste questo è uno di quei versi che tu leggi velocemente ci passi sopra e dici sì è vero ma c'è molto di più dentro poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo vediamo la versione The Passion Translation che dice Gesù Cristo ha svelato cioè ha tolto il velo alla verità avvolta nella sua tenera grazia in altre parole la verità è stabile e viene avvolta dalla grazia per prendere un esempio possiamo prendere tutti i figli di Giacobbe veramente erano i figli di Giacobbe ma solo uno aveva una veste intorno che era la veste della grazia ed era Giuseppe ed è tramite Giuseppe che Dio portò salvezza al popolo di Israele perché è solo attraverso la grazia che noi possiamo portare salvezza senza la grazia noi siamo incompleti ora molti di noi lo posso dire? qualcuno si offenderà ma tanto poi nelle prossime settimane probabilmente non ci sarò quindi non è un problema noi siamo cresciuti molti di noi con un Vangelo che ci parlava molto di verità perché? perché a quei tempi avevamo poca rivelazione della grazia e quel Vangelo in ogni modo che magari non ci ha portato a esplodere ma ci ha condotto dove siamo noi oggi però era come se la croce non fosse stabile inclinata inclinata verso la verità vedete invece oggi tanti ci etichettano come se noi portassimo un Vangelo che è invece inclinato verso la grazia non sto ballando l'avete vista la croce inclinata verso la grazia ma in realtà noi vogliamo portare un Vangelo stabile perché la croce è stabile la croce non è inclinata vogliamo dirlo tutti insieme la croce è stabile la croce non è inclinata e Gesù è venuto a portare un Vangelo come abbiamo letto di verità e di grazia e quello che dobbiamo fare noi dobbiamo solo comprenderlo e applicarlo sulla nostra vita e voglio che sappiate che c'è un equilibrio tra la verità e la grazia che noi dobbiamo raggiungere che noi dobbiamo scoprire perché quando verità e grazia lavorano assieme allora producono qualcosa lasciano il segno stravolgono le vite un Vangelo pieno di verità e avvolto dalla grazia stravolge la tua vita stravolge la tua città e stravolge la tua nazione alleluia qual è il compito della verità e qual è il compito della grazia la prima cosa che succede quando verità e grazia lavorano assieme è che producono un cambiamento ora mi piace una citazione del pastore Billy Graham quanti conoscono chi non conosce Billy Graham e lui dice la croce esige un cambiamento di vita e questa frase per alcuni è scomoda perché non riescono a comprendere che la croce non è sbilanciata ma la croce prima ti fa incontrare la verità e poi ti avvolge con la grazia ma tu non puoi evitare la verità se vuoi raggiungere la grazia la croce esige un cambiamento di vita la parola stessa ci dice chi rubava non rubi più punto il dito a qualcuno no 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 non posso fare esempi chi rubava non rubi più ditemi se questo non è un cambiamento chi prima magari era violento non lo sia più perché perché qua il momento che tu ti scontri con la croce inizia a te un cambiamento che ti trasformerà sempre di più a immagine e somiglianza sua alla perfetta statura di Cristo e qual è il compito della verità tu non puoi mai ricevere la conoscenza di quello che devi cambiare se prima non incontri la verità perché la verità ti dà la conoscenza del cambiamento che sta avvenendo in te e la grazia ti dà la forza di affrontarlo alleluia la verità ti dice cosa devi cambiare la grazia ti dice come devi cambiare mamma mia che predica gloria a Dio mi rendo conto a volte mi stupisco di me stesso umiltà umiltà ragazzi umiltà c'è una citazione di un altro pastore che noi conosciamo bene che dice Dio ti accetta come sei ma ti ama troppo per lasciarti come sei ora la verità ci dirà sempre le cose che noi dobbiamo cambiare per diventare sempre più simili a Gesù e questo non è un qualcosa che avviene una volta sola nella vita man mano che noi vogliamo crescere ci sarà l'esigenza di cambiare delle cose e io l'ho notato anche nella mia vita mi ricordo anche recentemente che una volta mia moglie mi ha fatto notare che ultimamente stavo alzando spesso la voce verso i bambini e quando alzavo la voce i bambini un po' che comunque io sembro buono ma quando mi arrabbio metto paura perché non avete mai visto mio padre arrabbiato ti assicuro ma quello che mi ha detto mia moglie era la verità e il signore mi sta dando la forza attraverso la grazia di cambiare ma se io non avessi non mi fossi mai scontrato con la verità non sarei mai cambiato la grazia ci darà sempre la forza la grazia vogliamo leggere secondo Timodio 2 verso 1 qualsiasi cosa noi dobbiamo affrontare nella vita la grazia ci darà sempre la forza dice dunque figlio mio fortificati nella grazia che c'è in Gesù Cristo e c'è una citazione dell'apostolo Guglielmo Maldonato che è molto toccato che dice non correre via dalla presenza del Signore ma corri verso la presenza del Signore perché perché la grazia ti accoglierà sempre qualsiasi sia l'errore o il peccato che tu hai commesso non correre via dalla presenza del Signore anche se poi la parola dice dove fuggirò dalla tua presenza ma corri verso la presenza del Signore perché la grazia ti accoglierà sempre alleluia ma senza la verità tu non sentiresti il peso del problema che devi affrontare ora apro una piccola parentesi perché dobbiamo cambiare perché alcuni potrebbero chiederci perché dobbiamo cambiare per un semplice fatto perché Gesù non ti ha salvato solo per darti la vita eterna se fosse così allora tu non dovresti cambiare dovresti solo aspettare di morire e di andare in cielo ma Gesù è andato alla croce sì per darci accesso alla vita eterna ma per darci anche una nuova vita e questa nuova vita non la possiamo vivere come quella che abbiamo visto lo precedente no è una nuova possibilità di vivere per la chiamata che Gesù ci ha dato quindi perché ti perché è andato alla croce perché ti ha salvato ti ha salvato affinché tu adempissi alla chiamata che Dio ha sulla tua vita è come se eri un carcerato un prigioniero Gesù ti ha aperto ti ha aperto le sbarre e ha detto vai ma adesso non vivere come hai vissuto prima adesso io ti dico come devi vivere la tua vita io ti guido io ti accompagno io ti do uno scopo perché tu sei parte di un progetto che ho tu sei parte di una chiamata di un proposito signore ma non so se ce la farò la mia grazia ti basta la mia grazia ti accompagnerà la mia grazia ti rialzerà quando cadrai la mia grazia ti rinnoverà la mia grazia ti fortificherà e la mia grazia ti darà nuova vita allora ce la fai perché perché la verità ti dice che dovevamo rimanere tutti in prigione ma Gesù è venuto e ci ha avvolto con la sua grazia ora lo dico o non lo dico vogliamo far arrabbiare qualcuno stamattina che dite sì o no ora vi voglio fare una domanda Dio ci ha salvato attraverso Gesù e ci ha arruolato si dice arruolato nel suo esercito giusto e un soldato quando entra nell'esercito cosa fa si prepara giusto giusto amore è così mia moglie sa che il mio sogno era quello di diventare un poliziotto comunque nelle forze dell'ordine ora ieri ho detto mi piacerebbe che uno dei miei figli guarda cambiamo subito argomento se tu fossi diventato un poliziotto non ti avrei sposato quello insomma è quando tua moglie proprio ti dice che non c'è proprio spazio per parlare dell'argomento comunque un soldato viene arruolato viene preso dall'esercito perché deve essere preparato alla guerra perché deve essere formato perché prima di andare in guerra deve stare lì gli devono essere insegnate tante cose ma avete mai visto un soldato che una volta che è entrato nell'esercito sta lì tutto il giorno a domandarsi chissà se mi butteranno fuori dall'esercito chissà se mi butteranno fuori dall'esercito chissà se mi butteranno fuori dall'esercito l'avete mai visto voi no un soldato è lì si prepara vuole avanzare vuole piacere al suo comandante vuole fare qualcosa per la sua nazione vuole adempiere alla missione e allora perché noi siamo a volte noi evangelici siamo qui a litigare se possiamo scadere o non scadere dalla grazia se possiamo perdere o non perdere la salvezza volete sapere quello che ne penso io la mia risposta è non lo so non mi sono mai posto la domanda perché non mi interessa perché io sto pensando a preparare me stesso noi non possiamo pretendere di avere tutta la verità o di avere tutta la rivelazione ma per quella che abbiamo andiamo avanti siamo qui a litigare se un giorno mi butteranno fuori o no dall'esercito quando le persone muoiono secondo me in cielo avremo molte sorprese fatevelo dire chiudiamo la parentesi quindi volete sapere il mio pensiero sull'argomento continuate a seguirmi su youtube ve ne dico solo una piccola piccola per me la salvezza è solo lo start è l'inizio ti hanno aperto i cancelli della prigione e se tu ti fermi lì a riflettere a pensare e hai paura di quello che ti potrebbe succedere o di come sarà il futuro la Bibbia non dice dedicate tutta la vostra attenzione al giorno che stai vivendo ora questo è quel verso che dice non state in ansia per il domani una versione inglese dice dedica la tua piena attenzione al giorno che stai vivendo ora perché ogni giorno ha il suo affanno e tu non sai quali saranno gli affanni di domani quindi non avere paura servi il Signore vai avanti nessuno ti rimetterà in prigione hallelujah ho perso un sacco di amici ma tanto sono anni che perdo amici ormai da quando ho cominciato a dire la verità la verità condita dalla grazia allora vediamo un paio di versi interessanti Giovanni 8 verso 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi guardate la versione The Passion translation se tu abbracci la verità essa rilascerà la vera libertà nella tua vita la verità porta libertà dentro la nostra vita e subito dopo la grazia sapete che fa riempie tutti quegli spazi che si sono liberati in noi la verità porta libertà e la grazia viene subito dopo riempie affinché tu non sia nuovamente schiavo Ebrei 4 verso 16 dice accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno la grazia è una porta aperta per noi è una via d'uscita è il sentiero nascosto che Gesù ha aperto per noi che ci conduce fuori dalla perfida foresta e sarà sempre così quella è la grazia è meraviglioso però una volta che Gesù ti ha liberato tu devi salire al gradino superiore non devi più aver paura della foresta perché la grazia ti ha liberato per farti crescere punto numero due il primo punto numero uno è che la verità quando si sposa con la grazia produce un cambiamento in noi punto numero due è che quando la verità e la grazia lavorano insieme ci fanno crescere wow mamma mia questa siete pronti guardate la mia mano guardate il mio braccio la nostra crescita avviene attraverso la verità e la grazia sapete perché perché la verità mette dei punti stabili in noi delle convinzioni delle convinzioni interiori e la grazia ci apre delle vie d'uscita cioè delle soluzioni questo è profondo una volta tanti anni fa i medici mi dissero che ero malato mai successo a qualcuno ma quella era la verità o meglio quella era la realtà che vedevano i medici ma la verità che Gesù ha portato dal cielo mi diede una convinzione tu sei guarito pum fate tutti quanti così pum e la la verità è diventata un punto stabile in me una convinzione perché la verità è quello che Dio ha preparato per noi e tramite Gesù noi la possiamo avere sulla terra e quando tu la ricevi tu vivi per quella convinzione e poi interviene la grazia e quando tu hai quella convinzione ti fa una via di uscita cioè ti dà una soluzione come on è così oh ahimè io non sono più malato come mai è stata perché prima nella mia vita è intervenuta la verità e la verità è stata accompagnata dalla grazia che mi ha dato una via per uscire dai problemi e oggi ti dà una via per uscire dai problemi anche a te alleluia convinzioni interiori Dio si muove attraverso convinzioni interiori che sono la verità giusto Arnò è così convinzioni interiori alleluia verità 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 che vengono dal cielo e scendono sulla tua vita verità 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 tu rialzerai la fronte tu uscirai fuori dalla bancarotta tu vivrai e vedrai i figli dei tuoi figli tu vedrai i tuoi figli e i tuoi nipoti lodare il Signore oh alleluia ci sono parole di verità finché viviamo senza convinzioni non abbiamo punti fermi dove poggiarle la nostra fede va Dio per farti crescere prima ti deve cambiare e poi deve mettere dei punti saldi che a volte questi punti saldi che lui mette vanno al contrario di tutto quello che senti intorno a te o che gli altri ti dicono o che vivi ma Dio ti dice quelli sono delle colonne dove io voglio che tu poggi la tua fede alleluia perché senza verità senza convinzioni dove si poggia la grazia perché la verità viene avvolta dalla grazia fisico atletico alleluia noi siamo qui per equipaggiare persone per la vita come on noi vogliamo produrre soldati e soldatesse che indossano la cintura della verità e la veste della grazia alleluia non vi dimenticate che ci hanno profetizzato che questa sarà chiamata la casa dei pastori la casa dove usciranno pastori uomini e donne alleluia mamma mia c'è una no 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 non c'è da ridere sto sotto unzione solo a leggerla ditemi quando siete pronti la verità è un padre che ti educa ti disciplina e ti insegna la vita la grazia è una madre che ti coccola e ti accoglie tra le tue braccia wow grazie il figlio prodigo è stata la verità a farlo tornare in sé è stata la verità a fargli percorrere la strada verso casa e lì la grazia era pronta ad accoglierlo ma senza la verità lui non sarebbe tornato in sé non avrebbe fatto la strada di ritorno verso casa se fosse bastata solo la grazia il padre gli sarebbe andato incontro perché la verità ti dice il cosa la grazia ti dice il come la grazia era lì ad accoglierlo e la grazia gli ha dato una nuova veste cioè l'ha lavata col suo sangue gli ha dato una veste bianca e quando Dio oggi ci guarda ci guarda attraverso quella veste per quello ci vede bianchi ci vede senza peccato la grazia gli ha dato dei sandali perché a quei tempi solo gli schiavi camminavano a piedi scalzi e la grazia gli ha dato un anello cioè gli ha dato una posizione nel regno a te a te anche ha dato una posizione nel regno anche a te tu sei parte di un progetto più grande di te e se Dio ti tiene ancora in vita è perché ti vuole inserire in quel progetto sì dobbiamo continuare a vivere dobbiamo continuare a lavorare dobbiamo continuare a fare tutto ma dobbiamo avere bene in mente qual è il progetto qual è la parte che Dio ci ha affidato che magari a volte per alcuni è solo crescere dei figli secondo i canoni di Dio o fare parte di qualcosa ma tu devi comprendere qual è la chiamata qual è il pezzetto del suo regno che Dio ti ha affidato questo è l'anello e l'anello sapete anche cosa rappresentava ai tempi la figliolanza il fatto di essere entrato a far parte della famiglia di Dio come ha cambiato vita quel ragazzo tramite la verità e la grazia che si sono incontrati insieme e hanno prodotto un cambiamento di vita senza la verità quel ragazzo sarebbe ancora lì nel fango ovviamente anche senza la grazia volete un altro esempio se no volontà ora quando Gesù era sulla croce c'erano altre due croci vicino a lui e ve le ricordate e uno dei Vangeli ci dice che i due ladroni lo insultavano ma c'è uno solo dei Vangeli che ci dice che uno dei due malfattori dice all'altro attraverso la croce di Gesù ti dice tu non hai nemmeno timor di Dio perché noi siamo qui per una giusta causa noi siamo qui per quello che abbiamo fatto questa è la verità che noi dobbiamo subire la crocifissione questo non si può cambiare e invece l'altro gli diceva se tu sei figlio di Dio salva te stesso e noi e dopo l'altro risponde e parla a Gesù gli dice Signore ricordati di me quando entrerai nel tuo regno e Gesù cosa gli dice proprio perché hai guardato verso la croce questo lo aggiungo io non c'è nella Bibbia oggi stessa sarai con me in paradiso la verità darà sempre conoscenza dei problemi che devi affrontare dei peccati magari di cui ti devi liberare ma la grazia la grazia è un vortice che è pronto lì ad avvolgerti ora per stuzzicare qualcuno vi potrei dire come mai Gesù disse a quell'uomo che sarebbe stato con lui in paradiso quando quell'uomo non aveva fatto il battesimo in acqua se volete la risposta seguitemi su youtube ho finito il tempo in realtà avevo un altro punto comunque la croce com'è un vangelo inclinato verso la verità ti darà conoscenza ma non ti darà soluzione e alla fine porterà condanna alla tua vita un vangelo inclinato non so se erano così sullo schermo comunque dato il senso ti farà ti darà un sollievo momentaneo ti edificherà ti farà sentire bene e questo è quello che la grazia fa ma non produrrà cambiamento nella tua vita non ti farà entrare nella chiamata che Dio ha per te ti darà solo nuove opportunità ma per poi farti ricadire sempre negli stessi ruoli perché perché la croce è stabile e noi vogliamo predicare una croce stabile un vangelo stabile un vangelo che cambia la vita perché noi vogliamo produrre uomini e donne di contenuto alleluia uomini e donne che attraverso la verità riescono a essere costanti perché la venità ti tiene sempre sul binario di Dio e attraverso la grazia sono continuamente riempiti dell'essenza di Dio e quando tu sei pieno dell'essenza di Dio come succedeva all'apostolo Pietro che la gente guariva solo con la sua ombra o come succedeva a Paolo che i suoi vestiti che erano stati su di lui venivano messi sui malati e i malati guarivano perché perché quando un vangelo è ripieno di grazia e di verità produce uomini e donne di contenuto alleluia persone ripiene di Dio persone che salgono salgono verso la perfetta statura di Cristo noi non vogliamo ripetere la prima venti volte noi vogliamo che ogni anno che noi passiamo alla presenza del Signore ci faccia crescere ci faccia salire sapete che significa il nome Giuseppe io ci volevo chiamare mio figlio ma poi non serve che vi dico che è successo io mi chiamo Andrea Giuseppe Basile chi non lo sa il nome Giuseppe significa accrescere aumentare come puoi tu accrescere aumentare il tuo livello di fede la tua crescita spirituale il livello della presenza di Dio che trasporti solo quando indossi il mantello della grazia alleluia e noi vogliamo creare una generazione di uomini e donne di Dio che camminano con la cintura della verità e il mantello della grazia alleluia uomini che non producono condanna nella vita delle persone ma che li portano a un cambiamento e li portano a capire tutto quello che Dio vuole nella loro vita perché c'è molto di più di quello che tu puoi fare dalla tua vita perché Dio ha molto di più alleluia se con un semplice Giuseppe che era partito dal pozzo più basso Dio ha potuto salvare una nazione intera io mi chiedo cosa può fare Dio con te oggi vogliamo alzare le nostre mani siamo nel nome di Gesù Spirito Santo io rilascio il potere della croce stamattina io rilascio Signore un vento di verità e un vento di grazia per mezzo della croce oh sappi che la croce è stabile nella tua vita alleluia sappi che la croce è stabile e la croce non può essere scossa alleluia perché la croce non è inclinata sono grazie a tutti